Ciao a tutti Al quarto posto troviamo un utente che purtroppo non è riuscito a mandarmi il suo nickname del PSN o dell'Xbox dove gioca perché la qualità è abbastanza bassa e quindi ho deciso di mettere il suo nome di YouTube Questo è Massimo Vizza mi scuso se il nome è cognome ma credo sia ovvio mettere il canale dato che non sono riuscito a recapitare il tuo ID Comunque guardate ha fatto davvero una cosa stupenda ha fatto un quickscope l'ha failato ora lo vediamo all'allentatore Faila un quickscope in modo abbastanza grossolano perché non era neanche troppo difficile da uccidere quel nemico e quindi qua si dice ha fatto un bruttissimo fail Poi sta anche giocando su deathmatch quindi la difficoltà era doppiata Fa un quickscope e non uccide uno e poi una bellissima triple in un colpo e come se non fosse finito continua e non uccide altri due in modo davvero egregio Comunque ragazzi per chi non se ne fosse accorto siamo al 99esimo video martedì il centesimo video montage fantastico quindi pronti sul canale tutti a vedervelo Complimenti intanto a Massimo per questa splendida clip Al terzo posto troviamo il TIE che ci propone una clip davvero molto originale in quanto si tratta di un'unità K9 super veloce Sta giocando su Nuketown in dominio vetrano con un pacere vedete come si riesce a destreggiare davvero bene ad uccidere tutti gli nemici che gli separano davanti E' stato anche molto accorto il TIE infatti lo ringrazio ha anche messo il cronometro così che io potessi ricavare il tempo senza avere problemi Vedete fa una strage davvero molto molto strage è l'unica parola che posso usare Qui è già arrivato l'unità K9 quindi complimenti TIE bella clip Al secondo posto troviamo una vecchia fiamma delle top 5 che è comparso nella seconda Infatti è Cross Peppy che sta giocando su Warhawk con uno Svoas col mirino termico L'ho messo al secondo posto anche perchè è una clip di Ghost e quindi diciamo non la precedenza se quella degli altri code in quanto è l'ultimo code uscito Guardate sta facendo una strage e non ha già uccisi 5 in pochi secondi con lo Svoas e come se non fosse finito qua fa un assist E poi tanto per finire in bellezza fa un'altra bella doppia quindi fa un 7 man feed in pochi secondi complimenti Cross Peppy Passate dal Cross Clan che troverete in descrizione Al primo posto troviamo una clip stravagante molto simile a quella del terzo posto Ma per fortuna di Domi 99X ossia il protagonista della clip Più veloce si tratta infatti di una delle unità K9 più veloce al mondo Se non la più veloce al mondo riesce a ottenerla in un tempo minimo mi pare di 10-11 secondi Sta giocando con la stessa tecnica dell'altro e qua ha già preso un'unità K9 È stata una cosa davvero molto veloce magari molti di voi non se ne sono neanche accorti Ora infatti potrete rivedere la rallentatore Entra su B che sta per essere conquistata e fa due uccisioni a mio parere anche abbastanza difficili Perché i nemici erano in Edglic Poi fa un wallbang che comunque funziona perché fa un'altra uccisione conquista Che è più che altro quella che lo porta all'unità K9 veloce Perché appunto un'uccisione conquista ti dà 200 punti Guardate quante ne fa qua fa una quad fit da uccisione conquista E quindi questo fattore l'ha davvero portato molto molto vicino alla K9 Con la conquista si è avvicinato a 100 punti Mancavano solo quei 150 punti dell'ultima uccisione La fa un'unità K9 Una clip davvero fantastica che a mio parere merita pienamente il primo posto Comunque ragazzi devo dire che questa settimana mi sono arrivate più clips del solito Infatti ne ho già pronte anche per la prossima settimana Quindi se per una settimana volete rilassarvi magari non mandarmele Perché non le vedrete questa settimana ma bensì la prossima Perché ho già tutte le clips appunto per domenica prossima Pronte Appunto ragazzi come ho già detto in precedenza questo è il 99esimo video Martedì uscirà il montage del centesimo video Un montage a cui ho lavorato davvero tanto dietro Un video che ci tengo che vediate tutti perché a mio parere è molto ben realizzato Quindi vi dico stay tuned Tanto per rimanere sintornizzati sul canale e non perdervi nulla Quindi ragazzi qua la top 5 è finita Vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento se quest'ultima vi è piaciuta Vi ringrazio ancora tutti per lo splendido supporto che mi state dando Per oggi Damirino è tutto e bella